Allora ragazzi, le partite sono iniziate da due giorni e per me è il secondo giorno senza sesso. Devo dirvi che molti di voi mi sono stati vicino, ecco qualcuno anche troppo vicino. La verità è che io voglio che gli azzurri vadano avanti, invece lei preferisce che escano subito. Giusto? Invece voi dovete sostenermi, dovete far girare questo video e dovete far l'amore, anche per me, perché io non posso farlo. D'accordo, io sto dando i numeri però, piccola, sto dando i numeri, 90, 60, 90, giusto? No, scusa, 91, 92, 92, ve l'avevo detto?